Salerno in città e allarme per una serie di rapine, l'ultima ieri sera in corso il comitato ordine e sicurezza. Michele Giordano. A Salerno allarme rapine, ieri sera l'ultimo assalto a mano armata in una tabaccheria in via Fiume. Il titolare intervenuto per difendere la figlia che era alla cassa ha reagito mettendo in fuga due banditi scappati in scooter. Hanno sparato un colpo, nessun ferito, avevano il volto coperto con maschere della casa di carta, come in una recente rapina in un supermercato cittadino. C'è stata una colluttazione, ovviamente di quello che mi ricordo, perché poi comunque c'è stata questa colluttazione, poi uno dei due teneva la pistola e poi dopo la colluttazione loro sono scappati. È stato un istinto. In quel momento no, poi dopo mi sono fermato un attimo e ho pensato, sì, magari è stata una cosa troppo… purtroppo è il nostro mestiere, anche questo, c'è il rischio che può succedere una cosa del genere, purtroppo sì. Nelle ultime settimane hanno fatto innalzare la preoccupazione, l'attenzione e le rapine, ma anche altre azioni criminali, come il raid notturno con principio d'incendio ai danni di un ristorante e il tentato omicidio in pieno centro di un diciassettenne. Un colpo di pistola al petto durante una lite per motivi banali, fermato un diciannovenne. In manette anche una banda di ladri d'appartamento. E proprio per questa mattina il prefetto Francesco Russo aveva già convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza. In sede di comitato abbiamo fatto già una verifica, c'è da un lato attenzione massima e ci sono sviluppi investigativi che riguardano anche gli ultimi episodi che sono accaduti, ma c'è anche la consapevolezza e diciamo anche l'orgoglio di aver posto in essere una serie di operazioni molto importanti.